Tocche notizia! Con tutti gli aumenti dei tassi effettuati in questi ultimi mesi da parte della BCE e nonostante il nuovo aumento in programma che con ogni probabilità verrà annunciato dopo domani da Christine Lagarde, ecco che arriva una doccia gelata. Non solo l'inflazione in Italia e in Europa nel mese di aprile non è scesa, ma è addirittura aumentata. Ad aprile nell'Eurozona il tasso di inflazione calcolato da Eurostat è risultato del 7% rispetto al 6,9% registrato nel mese precedente. È andata peggio all'Italia che ha visto sempre ad aprile salire il proprio tasso di inflazione all'8,3%, a marzo era del 7,6%. E molti italiani giurano che il tasso di inflazione reale sia molto maggiore, ma comunque rimaniamo con i dati ufficiali che sono già negativi abbastanza. E appunto, restando ai dati ufficiali, a determinare questo aumento sono risultati in particolare i beni energetici non regolamentati, mentre in controtendenza i beni energetici regolamentati. Viene anche evidenziato con una certa enfasi dai media mainstream che si registra un calo per il cosiddetto carrello della spesa. Dimenticando però di sottolineare che, seppure in calo, la sua crescita su base annua è tuttora al 12,1% e questo spiega almeno in parte anche il perché l'inflazione percepita dalla popolazione sia maggiore rispetto a quella ufficiale. Comunque, insomma, questi sono i numeri in sintesi ed obiettivamente si tratta di una doccia gelata perché la narrazione che c'era stata fatta, soprattutto nell'ultimo mese, andava in tutt'altra direzione. Ci raccontavano che la politica monetaria adottata dalla BCE, seppure avesse naturalmente degli effetti collaterali non proprio piacevoli, comunque stava dando dei buoni risultati, l'inflazione si stava riducendo e probabilmente anche la stretta creditizia operata dalla banca centrale poteva avere momenti, diciamo, di pausa, se non addirittura vedere un'inversione di tendenza. L'obiettivo del governo di un'inflazione media nell'anno in corso al 5,7% diventa così, insomma, dopo questo dato molto più difficile da raggiungere, per alcuni addirittura impossibile. E quindi sorge spontanea la domanda e ora, non dico ora, riferendomi a dopodomani, quello lo sapevamo già, l'Alagardo aveva già ribadito più volte che anche a maggio i tassi sarebbero aumentati. La domanda adesso più corretta è chiedersi e poi, e poi direi che non è finita. Io avevo spiccato che i tassi in Europa che sono in crescita dal luglio scorso si fermassero intorno al 3,75%, ora sono al 3,5% e vediamo di quanto sarà l'aumento che verrà annunciato dalla Lagarde giovedì, 25 o 50 punti base. Ricordiamo che se i tassi venissero aumentati dello 0,50% e arrivassero così al 4%, ebbene si troverebbero sugli stessi livelli che avevamo nel 2008, al momento dello scoppio della crisi. Quando poi Tresce, nel luglio del 2008, quindi a crisi già conclamata, l'innalzò di un altro 25 punti base portandoli al 4,25%, quella che fu poi, diciamo, unanimemente riconosciuta come la mossa più stupida mai effettuata nella storia dal governatore di una banca centrale. Ma ora, diciamo, concentriamoci sulle conseguenze per l'economia di questa inaspettata crescita dell'inflazione. Intanto cominciamo dalla cosa più scontata, la riduzione del valore reale di salari e stipendi. Purtroppo, infatti, sappiamo che le retribuzioni in Italia sono ferme, quindi è molto probabile che ciò abbia anche come conseguenza una contrazione dei consumi, con conseguenze decisamente pesanti anche per quanto riguarda il rischio recessione che al momento sembrava scongiurato, anzi, il mese scorso erano state riviste al rialzo le previsioni di crescita per l'anno in corso. Ora però, ecco, il governo ha annunciato proprio ieri un taglio del cuneo fiscale che quindi si dovrebbe tradurre in un aumento delle retribuzioni nette. Stiamo a vedere di quanto aumenteranno senza farci troppe illusioni. Ma certamente l'aumento dell'inflazione farà sì che i tassi continueranno a salire e questo porterà ad un aumento delle rate dei mutui, naturalmente per coloro che avevano optato per il tasso variabile. Ormai è quasi un anno che vediamo salire la rata del mutuo, ma non ci abbiamo ancora fatto l'abitudine. Ogni mese ci auguriamo che perlomeno questi aumenti si fermino, ma le nostre speranze vengono puntualmente disilluse. Il problema quindi comincia a farsi serio. L'aumento dei tassi ovviamente non si riduce ai soli mutui, ma si ripercuote su tutto il settore economico. Le aziende vedono aumentare i cosiddetti oneri finanziari, ossia gli interessi pagati sui prestiti che sono stati concessi dalle banche. Ovviamente tutto ciò si ripercuote sui prezzi in una spirale estremamente pericolosa. E dobbiamo infine anche tenere conto della finanza pubblica. È evidente che l'aumento dei tassi vada a ripercuotersi sul costo del debito pubblico. Gli investitori infatti richiederanno un maggior rendimento per sottoscrivere i titoli dello Stato e soprattutto per l'Italia questo è un problema di non poco conto. Ma qui diciamo arrivo alla conclusione questa situazione con l'inflazione che morde io non mi stancherò mai di dirlo è figlia di anni nei quali abbiamo abusato di una finanza allegra. Pensateci un attimo, cari ascoltatori ma se emettere moneta così come abbiamo fatto per anni in maniera sovrabbondante non avesse alcuna controindicazione e allora dovremmo chiederci ma perché dobbiamo andare a lavorare? La realtà io lo ripeto sempre è che pasti gratis non ce ne sono possiamo solo sperare che li paghino gli altri ma qualcuno senza dubbio paga. Su questo non ci sono dubbi.